buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 17 ottobre 2023 una giornata uggiosa lo vedremo dopo con le previsioni del tempo ormai il tempo è cambiato siamo entrati veramente in autunno e fa anche un pochino più fresco ma intanto passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di sant'ignazio di antiochia da non confondersi con sant'ignazio di loiola il fondatore dei gesuiti sant'ignazio invece fu un caro discepolo di san giovanni visse nel primo secolo fu proclamato vescovo di antiochia una città della siria e veramente operò per frenare le prime eresie e per evangelizzare tutta la popolazione per la sua opera fu condannato a morte sotto la persecuzione di traiano fu condotto a roma e fu messo nel circo dove fu sbranato dalle belve e lo vediamo qui nella iconografia con un leone vicino veniamo ora alle previsioni del tempo dicevo che la giornata si presenta uggiosa sulla regione con cielo coperto e qualche pioggia moderata tra la notte e il mattino insomma dovrebbe accadere in queste ore il clima è prettamente autunnale le massime non dovrebbero superare i 20 gradi le minime invece sono un pochino sprofondate siamo sui 13 gradi sulle coste i venti vengono da nord est mentre nell'entroterra da est il mare è leggermente mosso questa è un po la situazione del tempo che ci accompagnerà per tutta la giornata ed ora apriamo il giornale a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo l'articolo di apertura eccolo ieri si è presentato un nuovo comitato si tratta del comitato dei residenti di viale cairoli ebbene un comitato che è sorto dopo tutte le proteste che sono susseguite alla presentazione del progetto del famoso sottopasso di viale cairoli quello che dovrebbe così consentire un traffico piogevole soprattutto da parte dei pedoni e delle biciclette ma con un impatto ambientale veramente considerevole che prevede l'abbattimento di 18 alberi un provvedimento questo che viene in modo molto deciso contestato specialmente dai residenti i quali amano la frescura che gli alberi propagano specialmente nel periodo estivo e soprattutto questo bene ambientale che dà ossigeno che dà serenità che dà ambiente al percorso verso il lungomare ma non è solo una questione di ambientalismo è anche una questione di vivibilità e di viabilità soprattutto ebbene il comitato che si è presentato nella giornata di ieri e vediamo qui la fotografia l'articolo è di apertura anche sul resto del Carlino con il titolo viale cairoli fermate tutto in città spuntano altre barricate un gruppo di residenti contesta il progetto che include l'ampliamento del sottopasso ferroviario sbagliato limitarsi a quell'intervento ebbene guardate bene che i residenti non sono contrari a mettere le mani sul sottopasso ma non con quel progetto un progetto che deve essere rivisto perché non si può secondo loro fare una struttura lunga tantissimi metri sembra che siano la bellezza di vediamo un po se riesco a rintracciare il numero dei metri sono tanti sono quelli che consentono di realizzare un accesso diciamo così in discesa al sottopasso veramente lungo e molto impattante ebbene hanno parlato anche di viabilità perché lamentano la carenza di parcheggi in modo particolare quando a Lido ci sono molte manifestazioni tutta la zona viene intassata da auto almeno che si metta a disposizione il parcheggio di viale Kennedy in modo che i residenti possono mettere la macchina non nel parcheggio di viale giustizia che è molto molto lontano ma almeno in un'area di sosta più vicina gli alberi vanno tutelati ma ripensate anche alla mobilità e il titolo appunto che evidenzia questa questa presa di posizione e il comitato intende farsi interlocutore nei confronti dell'amministrazione comunale per manifestare le loro esigenze troppi rumori in città la lega incalza la giunta e questo è un argomento che è stato invece posto in evidenza da un altro comitato il comitato dei residenti del centro storio che si è presentato nei giorni scorsi tra le cose la sicurezza all'arredo che hanno lamentato hanno lamentato anche il problema dei rumori sì perché d'estate ma anche d'inverno ma d'inverno soprattutto gli esercizi e i luoghi pubblici della città vengono usati come cassa di risonanza per fare musica per fare chiasso per fare animazione e questo ovviamente disturba chi a quell'ora non a mezzanotte ma verso le 11 così va a dormire e vogliono più quiete di questo si è fatto portavoce e il gruppo consigliare della lega che domani quando ci sarà consiglio comunale e presenterà una interrogazione per spingere l'amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti e soprattutto a localizzare un'area dove svolgere le manifestazioni un'area che non possa portare disturbo appunto ai residenti troppi rumori in città la lega incalza e parliamo dell'area ex agip spunta un atto del 1956 che impone all'eni a cui era stato dato in concessione d'uso l'area per fare un distributore di ripristinare il luogo come era all'inizio alla fine della concessione ebbene le spese per tutta la bonifica sono state fatte da eni e ovviamente ma qui c'è una presa di posizione del gruppo consigliare di fratelli d'italia composto da lucia a lucia tarsi e da giuseppe pierpaoli che hanno così invitato l'amministrazione comunale a riconsiderare la riproposizione di un ripristino originale appunto dell'area e di questo si parlerà anche di questo argomento nel consiglio comunale di domani un consiglio comunale molto non ricco di punti all'ordine del giorno ma molto sapido molto inteso per quanto riguarda gli argomenti che verranno messi in discussione primo tra tutti quello del convento dei trappisti e vediamo in questo articolo di spalla quello che viene annunciato trappisti il centrodestra soccorrerà la maggioranza è una previsione molto facile quella che sta fatto francesco panaroni del gruppo consigliare del movimento 5 stelle che ovviamente si pone in contrasto con la decisione della giunta di approvare questa variante a monte giove per la realizzazione di un convento dei frati trappisti perché dice panaroni che la maggioranza soccorrerà l'opposizione perché all'interno dell'opposizione fino adesso dall'interno della maggioranza fino adesso scusate ho invertito le cose l'opposizione soccorrerà la maggioranza perché perché all'interno della maggioranza fino adesso ci sono stati dei voti contrari anzi delle posizioni contrarie non dei voti perché non si è arrivati al voto delle posizioni contrarie che hanno consigliato il vice sindaco cristian fanesi a rinviare l'argomento all'ordine del giorno per ben tre volte questa volta invece i voti ci dovrebbero essere voti anche se non molto molto convinti da parte della maggioranza potrebbero venire in soccorso quelli della minoranza è un fatto decisivo è stata la presa di posizione dell'onorevole baldelli che si è pronunciato in favore della localizzazione del nuovo monastero comunque sia lupus in fabbola gli ambientalisti da una parte extra consiglio mentre anche i rappresentanti dei 5 stelle in consiglio si dichiarano contrari appunto alla istituzione del monastero cuore comune il sindaco chiede le candidature cuore comune è una manifestazione che è stata istituita l'anno scorso è una istituzione quindi l'anno scorso la prima edizione quest'anno viene ripresentata quindi è la seconda edizione il sindaco lancia questa edizione in ringraziamento alla città e a coloro che si donano e si mettono al servizio degli altri è un'occasione per rendere grazie a tutte quelle persone donne uomini fanesi che in questi anni attraverso una associazione di appartenenza hanno prestato in qualche modo servizio o portato beneficio o di prestigio alla città è un atto di riconoscenza una targa insomma non è che questa cosa ha valore ma ha valore l'atto ha valore la riconoscenza di un'amministrazione comunale che ringrazia gli anonimi cittadini singoli cittadini che non si sono fatti avanti con il loro nome ma hanno operato hanno operato in maniera consistente per il bene della città è una bella iniziativa la premiazione adesso tutti coloro che possono essere così segnalati possono fare inviando una mail al sindaco chiocciolacomune.fano.pu.it ripeto una mail a sindaco chiocciolacomune.fano.pu.it si invia una email si segnala il nominativo si dice anche qual è il perché insomma lo si segnala e quindi poi ci sarà un comitato che farà una selezione la premiazione è fissata per il 5 dicembre prossimo le parole fonte di cultura così favoriamo il turismo un'iniziativa di fossombrone dove è stata organizzata una rassegna d'arte di storia e architettura si tratta di parole 2023 che inizierà il 19 ottobre e terminerà il 23 marzo 2024 quindi veramente un arco di tempo e che fossombrone utilizzerà per mettere in evidenza quello che è veramente arte quello che è storia e architettura mentre san lorenzo in campo invece scopre la genitorialità e offre un incentivo offre un'assistenza ai nuovi genitori è un po' un clima questo che permea di sé tutta la nostra nazione dove il calo delle nascite è sensibile e dove ci vuole una cultura ma anche un sostegno un sostegno economico alle giovani coppie prende via l'iniziativa del comune di san lorenzo con due professioniste si tratta di un servizio gratuito per le nuove famiglie residenti nel territorio comunale di san lorenzo uno spazio protetto per le coppie in attesa e i neogenitori dove potranno sentirsi gli stessi accolti supportati e accompagnati nel delicato percorso di crescita dei loro figli dei loro bambini un appello che si ripete costantemente è quello che lanciano le forze dell'ordine non fidatevi degli estranei che suonano alla porta e soprattutto non fateli entrare in casa il consiglio dei carabinieri contro truffe e furti in due incontri pubblici incontri pubblici che si sono tenuti a san lorenzo in campo scusate nel circolo ancos con il maresciallo gabriele galassi e nella chiesa di sant'antonio nella frazione di castelvecchio a monte porzio alla presenza del luogotenente lorenzo chiapperini comandante della locale stazione due carabinieri che hanno così illustrato quello che è un po' la tattica dei malviventi per truffare per rapinare per rubare agli anziani soprattutto i quali hanno sempre un monito di buona fede e quindi vengono facilmente fatte vittima di questi soprusi senigaglia una storia infinita quella di ponte garibaldi ancora stoppa i lavori il cavo blocca soprattutto la demolizione la demolizione deve ancora aspettare la telecom chiede ancora tempo per rimuovere questo cavo una tarantella per netti incomprensibile questa vicenda per babini la telecom ha chiesto un mese di tempo per ultimare la rimozione del cavo del ponte garibaldi e la demolizione rischia a dislettare a novembre insomma veramente siamo al massimo per quanto i tempi sono passati trascorsi mesi e anche anni per ripristinare il passaggio tra le sponde del misa e vediamo l'apertura sulla pagina di pesaro dedicato al parcheggio della capucina che finalmente avrà il suo via libera porta capucina dopo anni di contenziosi e carte bollate tra pubblico e privato ha ricevuto il via libera infatti il consiglio comunale ha approvato la delibera con 28 voti favorevoli e nessun contrario ieri in consiglio comunale si tratta della variante al piano regolatore generale per realizzare un parcheggio pubblico in questa area a servizio dei pendolari della stazione e di tutti i pesaresi vedete qui lo spazio di questo parcheggio che è veramente utile anzi indispensabile ok all'operazione di san benedetto il ex manicomio di pesaro e la regione farà la sua parte il centrodestra prova l'acquisto e si spende a nome di acquaroli i lavori per il recupero del san benedetto come assicurato dall'assessore riccardo pozzi verranno affidati entro la fine dell'anno per avviare per avviare i cantieri all'inizio del 2024 resta comunque il noto del completamento della parte che appartiene alla regione marche la quale ha ricevuto sollecitazioni dalla maggioranza di intervenire e sembra proprio che il palazzo raffaello ovvero ancona farà la sua parte supplicavo fermati ho due figli ho avuto paura per la mia vita bastianelli racconta l'incubo correva mi ha sfiorato ho protestato e tornato indietro ebbene un fatto inqualificabile è accaduto a ferminiano dove un cittadino veniva quasi investito da un'auto per paura si è ritratto e ha alzato le braccia dicendo vai più piano non l'avesse mai fatto non l'avesse mai fatto l'automobilista che era passato lì si è fermato e tornato indietro e ha cercato di investire l'uomo che ha inveito e poi non contento è sceso dall'auto e l'ha preso a martellate veramente un incubo per bastianelli che ha tentato di proteggersi e se guardate poi il resto del carlino vedete come l'ha ridotto ecco qui il volto della vittima Matteo il sangue il terrore era una furia cieca sarei morto mi ha salvato il netturbino infatti un uomo dell'aset è passato lì e per fortuna è sceso e ha messo in fuga l'aggressore veramente un fatto inqualificabile continuiamo la pagina di pesaro del corriere vediamo ancora le notizie e vediamo come si parli di sanità in questo articolo con la foto di andrea biancani medici a gettone cortocircuito della regione biancani interviene ancora sui mancati fondi per pagare le ore aggiuntive al personale assunto quattro turni di un esterno costano come un mese di un interno con dieci anni di anzianità pensate quindi quando si ricorre poi all'iniziativa privata i costi aumentano a dismisura convitto al cecchi assegnato l'appalto la ditta dice il cantiere prenderà il via all'inizio del 2024 guardate questa bellissima scuola è quella di villa caprile 3,7 milioni alla provincia per villa caprile previste anche nuove alve è una palestra quindi anche questo un edificio da ristrutturare ed è un edificio bellissimo di carattere storico bene qui abbiamo finito l'esame del corriere adriatico ora apriamo il resto delle carlino con l'apertura sulla pagina di fano che abbiamo già visto viale cairoli fermate tutto e quindi passiamo alla un altro problema che persiste da lungo tempo quello della centrale di carrara dove i rumori molesti non sono finiti malgrado gli interventi di terna che ha cercato un po di così di fermare un po questi rumori che emette la centrale i disagi non sono affatto cessati arpam deve fare le rilevazioni ma non viene ebbene per almeno due famiglie di carrara la convivenza con la vicina stazione elettrica continua a essere a dir poco difficile terna ha terminato a metà giugno gli interventi di mitigazione acustica che vanno dalla sostituzione dei trasformatori alla posinopera delle barriere fonoassorbenti ma questo non basta perché c'è chi continua a considerare insopportabile il rumore proveniente dalla stazione queste persone devono tenere sempre le porte chiuse le finestre chiuse perché altrimenti dentro casa non si vive un problema che deve essere ancora risolto ed ora parliamo di arte parliamo di arte perché è tornato il perugino a Fano questa bellissima pala della Madonna e Santi pertinente a Santa Maria Nuova che era stata portata a Firenze per essere restaurata da prima per uccidere per bonificare il legno dai tarli e poi per effettuare un restauro che è stato giudicato indispensabile e la città ora si appresta ad accogliere questa magnifica pala dopo il restauro a Firenze grande mostra dalla dicembre a palazzo malatestiano per ricordare il perugino che a Fano ha lasciato due tele quella dell'annunciazione e quella della Madonna in trono con altri santi in quanto ricorre il centenario di questo grande di questo grande artista questa si chiama la pala di Durante o pala Fano firmata da Pietro Vannucci universalmente noto come il perugino ebbene una bella manifestazione che un po' però mitiga il rammarico per aver privato Fano per tutta l'estate di questo capolavoro che magari con la promozione che è stata fatta ha tirato dei turisti a Santa Maria Nuova e non l'hanno visto hanno visto soltanto una copia e siamo a Urbino a Urbino abbiamo l'avvicendamento di frati al convento di San Bernardino avvicendamento per la comunità dei frati minori residenti presso l'antico cenobio di San Bernardino adiacente al cimitero monumentale e San Bernardino lo sappiamo è il sacrario dei duchi da Montefeltro giungono da Urbino fra Paolo Castaldo e fra Andrea Ricatti si occuperanno rispettivamente della parrocchia di San Bernardino e di quella universitaria e poi conoscere Urbino Umanistica con una guida da 350 pagine la città raccontata e spiegata non solo al turista nel lavoro di Gianfranco Bellucci ci sono molti modi per accingersi alla visita di una città c'è chi è più incline alla sorpresa e avrà con sé il vantaggio di vedere cose veramente bellissime e chi invece vuole attrezzarsi prima vuole conoscere attraverso una guida tutti i misteri tutte le cose belle di una località ebbene questo libro di Gianfranco Bellucci soccorre a questa necessità ospedale di Pergola adesso parlano i tecnici dopo le schermaglie tra esponenti partito democratico e assessore Baldelli l'azienda sanitaria e la struttura regionale spiegano la natura degli interventi da 30 milioni quindi fondi necessari per l'ospedale di Pergola e poi vediamo l'articolo di cronaca centropagina che ricorda come alcuni studenti difendano il professore che è stato messo sotto accusa prosegue infatti il processo nei confronti dell'insegnante di matematica del liceo scientifico Torelli ma altri allunni lo difendono altri lo accusano altri lo difendono si tratta del cinquantenne Enrico Cinelli ex professore di matematica accusato di maltrattamenti psicologici nei confronti di alcuni studenti appunto della sua scuola infatti risalgono a un bienio scorso quello del 2017 e del 2018 e a quello del 2019-2020 ebbene ieri in aula sono stati sentiti testimoni a favore dell'imputato sono due ex studenti e la mamma di una studentessa del Torelli che hanno invece ribadito come il professore fosse certamente severo ma non maltrattante e quindi ci sono posizioni controverse siamo in conclusione voglio concludere soltanto con l'apertura che il resto del Carlino dedica all'incidente e al fatto di cronaca invece che è accaduto a Ferminiano va il piano e scatta la follia lo investe e lo prende a martellate poi fugge con l'auto ma è stato arrestato incredibile cosa a Ferminiano massacrato solo per avere fatto cenno col braccio a un automobilista di rallentare veramente siamo all'estremo e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci